Mimma Brandolini da kickboxer a personal trainer Sì, sono già 10 anni che unisco la kickboxing al lavoro di personal trainer quindi ci siamo solo spostati di sede diciamo Questa è una giornata particolare perché esce questa idea innovativa per quanto riguarda il fitness, personal fitness Sì, questa è un'idea innovativa, infatti lavoriamo one to one con un team di professionisti scelto appositamente da me sono ragazzi che lavorano nel campo del fitness da 10 anni e insieme a loro abbiamo creato questo nuovo metodo di lavorare Io già in due anni ho lavorato in un'altra sede dove lavoravo da personal trainer e qui abbiamo fatto le cose ancora più in grande Qual è il vantaggio per chi viene in palestra in un ambiente come questo avere un one to one? One to one ti permette di lavorare di qualità perché noi iniziamo da un check up iniziale dove facciamo una valutazione a 360 gradi sulla persona e poi programmiamo una tabella d'allenamento seguiamo la persona passo passo quindi è inevitabile non avere risultati Una gran bella struttura questa, chi ritieni possa essere il pubblico l'utente di personal fitness? Sicuramente è una persona che ricerca i risultati, che vuole lavorare in maniera diversa qui lavoriamo molto con lavoro funzionale, abbiamo piccoli attrezzi, un metodo americano, abbiamo cognato nuovi metodi di programmi quindi per chi vuole il dimagrimento, chi vuole l'ipertrofia, chi si vuole divertire, chi vuole essere accompagnato nell'allenamento sicuramente qui può trovare il miglior modo Alle tue spalle non poteva mancare il ring? Eh sì, questa mi appartiene, guida la mia vita, il ring e quindi non poteva mancare lavoreremo da personal trainer anche con la kickboxing quindi questa è una novità, non si è mai visto un'unica persona che ha un ring per sé ring ditto ring ditto Grazie.